Radio Ucifocus Il governo alla manovra destinerà 3,8 miliardi per il primo trimestre. Nel dettaglio 1,8 miliardi saranno destinati all'azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kilowatt elettrico, 600 milioni per leva sul gas al 5% per tutti, 500 milioni per l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas, 900 milioni per l'annullamento dell'aumento per clienti domestici con 8.264 euro di Isee o famiglie numerose o fragili. Per ulteriori conferme bisognerà attendere la pubblicazione del decreto legge e dalla redazione tutto al prossimo aggiornamento.